Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh Ciao, nuova idea regalo da mettere sotto all'albero, i sali da bagno profumati io ne ho fatti di due tipologie, vediamo insieme Bacinelle, sale grosso e sale fino, oli essenziali, aroma naturale e coloranti alimentari vado a dividere sale grosso e sale fino in due bacinelle in proporzioni uguali e inizio mettendo dell'olio essenziale alla cannella e del colorante rosso Dopodiché nell'altra ciotola vado ad aggiungere gli agrumi e dell'olio essenziale di limone insieme a del colorante giallo Ora vado a prendere un vasetto o un contenitore, questi li ho decorati io tra l'altro vi lascio il link al video diretto giù nell'info box e vado a mettere due cucchiai di sali da bagno alla cannella e un po' di cucchiai di sali da bagno agli agrumi e li alterno così per creare delle righe nel vasetto L'ultimo strato l'ho presso un pochino e voilà, il primo è fatto, le righe sono fantastiche da vedere Vado a farne un altro, questo qui è menta ed eucalipto per svegliare i sensi di chiunque e del colorante azzurro per rendere proprio l'idea della freschezza e poi limone insieme a del colorante giallo Questo sale da bagno risveglia davvero tutti i sensi, ha una freschezza incredibile e vado anche qui ad alternare dell'azzurro a del giallo Il gioco è davvero semplice, farete sicuramente un figurone poi potete sbizzarrirvi anche con lavanda, marshmallow tantissimi e tantissimi altri gusti, vaniglia e caramella Io vi aspetto a tutti i miei prossimi video spero che questo video vi sia piaciuto e ciao ragazzi!